dal 21 al 26 settembre anche noi suoneremo il 22 di settembre in questa edizione in cui saranno un sacco di artisti quindi vi consiglio di andarvi a ricercare su google su facebook dove volete le informazioni su questo evento tutti gli eventi sono ingresso gratuito quindi anche se non siete prettamente fan di Bruce Prings quindi veniteci perché Glory Day sono molto molto divertenti anche per chiunque ami la musica quindi vogliamo farvi una canzone di Bruce Pringsteen e augurandoci comunque di incontrarvi presto magari in qualche bella serata dedicata alla grande musica questa si chiama Fan the World e durante questa canzone è vietato passare di qua quindi potete passare dietro ma non qua Scream those slams Grazie a tutti 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 Grazie a tutti